Un libro che viene presentato ufficialmente sabato 18 alle ore 17 al Blu Arena, un libro che racconta tante storie di Colbordolo, Sant'Angelo e Lizzola, fino all'ultimo per ordine di tempo Vallefoglia, un comune nato sette anni fa. Abbiamo voluto con tutte le nostre forze per trovare le risorse per raccontare la storia di questa città, le radici storiche che vanno da Terenzo Mamiani, ministro del governo Cavour, deputato, senatore, a Costanza Monti, a Giulio Perticari, a Giovanni Branca, a Giovanni Santi, parli di Raffaello che è nata Colbordolo, al Conte Pacciotti di Montefatti, grande architetto militare, a Gerola Mogenga, personaggi importanti di caratura nazionale e poi la fotografia, anche parafrasando con le bellissime foto parte da Filippo Viajanti, proiettare Vallefoglia una città futura, cioè il futuro di Vallefoglia, di una città industriale, città giovane, una città dove in controtendenza nazionale nascono tanti bambini, quasi quanti nei periodi in cui non c'era il Covid, una città dove i matrimoni sono tantissimi, quindi una città futura. Abbiamo stampato 1500 coppie, verranno distribuiti a quelli che verranno alla presentazione, poi le biblioteche, diciamo, quelli che avranno voglia di avere una coppia, penso ai matrimoni, penso a tutti quelli che stanno a Vallefoglia e che verranno o dal sindaco o dall'amministrazione per avere una coppia, per capire dove sono capitati. Quanto è stato complicato e allo stesso tempo entusiasmante scrivere su questo territorio, soprattutto in un periodo in cui la società di oggi dà priorità alle immagini e non alla scrittura. Complicato, entusiasmante e effettivamente abbiamo dato molto spazio alle immagini, sia perché la civiltà di oggi si legge sulle immagini, sia perché abbiamo voluto corredare questo libro che parla di personaggi del passato, sono circa 500 anni di storia che noi attraversiamo da Giovanni Branca a Terenzo Mamiani, con delle immagini contemporanee, cioè abbiamo affiancato alle immagini della riproduzione delle tempere del Mingucci del 600, degli acquarelli del Liverani dell'800, delle immagini scattate appositamente nel 2021 da Filippo Biagianti, al quale ho chiesto di documentare proprio Vallefoglia da un punto di vista così complessivo, globale, cioè di cercare anche molto, oltre a focalizzare i punti salienti di ogni paese, le piazze, i castelli, i monumenti, anche proprio la valle, il paesaggio, il panorama nel suo complesso, perché questo libro parla effettivamente di Vallefoglia, parte certo da Sant'Angelo Lizzola e Colbordolo, che sono i due comuni che hanno dato origine a Vallefoglia, ma punta a parlare proprio di Vallefoglia, cioè della città di Vallefoglia. Un territorio pieno di borghi, di paesi e di castelli presenti, castelli che non ci sono più, e quindi un territorio da visitare, può essere un luogo turistico per un turista che insomma che viaggia la nostra provincia, tra il Piazzorurbino sicuramente Vallefoglia merita una tappa. Questa pubblicazione insomma serve per far conoscere Vallefoglia al di fuori, ma anche per i nostri concittadini, che è un territorio che ha subito anche delle migrazioni e quindi sicuramente ci sono luoghi meravigliosi che anche i nostri concittadini non conoscono, quindi sfogliando la pubblicazione avranno conoscenza anche dei luoghi a cui approfondire la conoscenza.